Ciao a tutti amici unicornosi e bentornati sul canale! Oggi ci troviamo nel video speciale 200 iscritti. Per lo speciale 200 iscritti ho deciso di fare un nuovo logo e ovviamente anche una nuova intro. Il nuovo logo è questo qui. Mentre la nuova intro ancora non ve la faccio vedere, infatti ora vi farò vedere un piccolo video di registrazione scremata mentre creavo la intro. Quando sarà concluso il video vi farò vedere la intro finita. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Spero di sì! Ora il video è finito, iscrivetevi se non l'avete già fatto, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video! Ciao!